Per il Settimana Sport siamo con Guido Poggio, allenatore del Bogliasco. Guido, oggi una prestazione buona della tua squadra che vi fa mantenere le posizioni alte della classifica. Ma direi che avete giocato con una squadra che si è impegnata fino alla fine. In questa squadra tanti giovani che si volevano mettere in mostra. Sì, intanto ho trovato una squadra organizzata. All'inizio la partita è stata equilibrata, è stata risolta da quei due gol di Di Marco che in questo momento è un buonissimo momento di forma e vede la porta grande. Questi due gol, in cui lui è stato veramente molto bravo, ci hanno permesso di trovare un po' più di facilità nella manovra, nell'esecuzione delle giocate. Loro mi sono piaciuti, mi sono piaciuti sotto tanti aspetti. Sono equilibrati, organizzati perché all'inizio ci erano imbrigliati come speravamo non facessero. Sono una buonissima squadra, senza contare l'età che hanno. Ecco perché c'era, a parte il numero 9, gli altri erano tutti fuori quota. Quindi onore a loro che fanno queste partite pur essendo così giochi. Guido, andando a cercare il pelone e l'uovo, oggi cos'è che non ti è piaciuto nella tua squadra? Ma, non lo so, qualche situazione nel palleggio poteva essere gestita un po' meglio, però siamo in promozione. Non dobbiamo neanche essere sempre, oggi sono contento che finissero tutte così le partite. Ok Guido, grazie, in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Spero di venire a vedere Bolliasco e vederlo sempre nelle prime posizioni classi B. Anche io ci spero, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi.